Incomincia un anno nuovo. Un anno nuovo può essere un numero sul calendario, può essere uno scorrere ripetitivo di giorni, può essere anche un insieme di scadenze che generano preoccupazioni, che impongono commemorazioni. Ecco, come possiamo vivere il 2018 noi che abbiamo ricevuto la rivelazione della presenza di Gesù nella storia? Ecco, io vorrei suggerire questo, che sia un anno benedetto da Dio, che ogni giorno noi, nel 2018, svegliandoci, prima di distinguere che si tratti di un lunedì o di una domenica, noi diciamo questo giorno è un giorno benedetto da Dio. Prima di sapere se oggi piove o c'è il sole, noi diciamo questo giorno è benedetto da Dio. Prima di sapere se quello che ci aspetta è attraente, simpatico, esaltante, oppure se è invece deprimente, faticoso, scoraggiante, noi diciamo questo giorno è benedetto da Dio. Ecco quello che vi auguro, che ogni giorno dell'anno nuovo voi lo viviate come un giorno benedetto da Dio, cioè un giorno in cui Dio è alleato del bene, Dio è dalla parte di coloro che amano il bene, Dio vi benedice. Buon anno. Grazie.